La settimana nostra è stata vissuta come tutte le altre settimane, consapevoli che stiamo facendo bene, ma sappiamo che vogliamo raggiungere un grande traguardo. Ancora non abbiamo raggiunto niente. Prima l'obiettivo è quello di mantenere la categoria, che è la cosa che conta quest'anno. Poi c'è la soddisfazione personale di questo gruppo di ragazzi, della società, del sottoscritto. Di conseguenza quello viene sicuramente una cosa importante, però non ci deve assolutamente distogliere l'attenzione da quello che è il campionato. Mister, è una settimana particolare perché si gioca di sabato, una partita che è importante ovviamente per voi e per il Casserigone. Come la sta preparando questa casertana? Con la giusta attenzione, perché sappiamo che il Casserigone è una squadra difficile, è una squadra che ha prima di tutto il capocannoniere del girone. E questo la dice lunga sul fatto che è una squadra che, avendo nelle sue file colui che in questo momento ha segnato più gol, vuol dire che è una squadra che crea molto. Soprattutto in casa è una squadra che non perde difficilmente. Bisognerà stare attenti perché ha giocatori di categoria, pur essendo una neopromossa ha messo su un organico importante per mantenere questa categoria. Lo sta facendo con tutto l'onore possibile. Di conseguenza noi abbiamo, mi ricordo la partita dell'andata, so che abbiamo sofferto maledettamente. E questo è quello che ho detto ai ragazzi. Abbiamo lavorato come sempre, sapendo che sarà dura, difficile, però andiamo a giocarcela. Mister, al di là della squadra, una curiosità sul campo sintetico che è stato proposto dalla società al Comune. Secondo lei quanto è fondamentale che questo avvenga affinché la Casertana, l'anno prossimo, possa affrontare meglio le partite in casa? Beh, una cosa è certa. La Casertana non può giocare su quel terreno di gioco o in quello stadio. La Casertana si riaffaccia dopo vent'anni in un campionato professionistico e penso che anche la struttura abbia bisogno di qualche piccolo ritocco. Non si può rimanere indietro nel tempo. È un biglietto da visita. Quest'altro anno il campionato sarà un campionato importante, un campionato con molta visibilità e avere una struttura decente. Penso che sia anche onore per la città. Il campo adesso è in condizioni che non è proponibile giocarci una partita di un campionato professionistico. Perciò o sintetico oppure va rifatto completamente il Manterboso. Indubbiamente in questo momento ci sono le soluzioni del sintetico che danno la possibilità di meno manutenzione e di avere un punto di riferimento. Io mi auguro che questo venga fatto.